Sempre un grandissimo riconoscimento, una grande soddisfazione ricevere le 5 vele da parte dell'Egambiente. Siamo impegnati costantemente a portare avanti delle politiche di sviluppo sostenibile. Questo lo stiamo facendo sia come Comune di Posada, sia come comprensori turistico assieme al Comune di Siniscola e anche come il Parco regionale di Tipilora, dove il Comune di Posada ricade all'interno. Quindi è un lavoro che stiamo portando avanti da anni e che sta dando anche grandi risultati.